ciao a tutti ragazzi ciao bentornati sul nostro canale youtube video di oggi dedicato all'unboxing della figure pop up parade della serie hunter hunter ovvero isoka si eccolo qui in tutto il suo splendore e piccola precisazione per chi non lo sapesse qui c'è scritto iskoa anche se in giapponese poi c'è scritto isoka però hanno messo questo perché tipo nei databook ufficiali viene traslitterato ufficialmente in questa maniera mi sfugge il perché però è così insomma allora qui è sempre bello che hanno un po rifatto diciamo i motivi così suoi sul retro è vero comunque ci sta molto bene e niente io direi che possiamo intanto aprirla allora ci dovrebbe essere dello scotch da più parti presentare si presenta molto bene vediamo se anche la qualità è come da aprire molto facilmente alla fine fine come le altre come le altre poi ecco qua c'è della plastica insomma delle l'altro scotch è vero ok si meno però di quello che solitamente c'è normalmente dovrei aver levato tutto scusate per il rumore ok va allora qua l'hanno protetta con un po di plastica la figure adesso andiamo a rimuovere anche il piedistallo molto semplice niente di particolare e andiamo a vedere la figure nel dettaglio eccolo qui davvero splendida come figure allora qui abbiamo la versione di soka durante l'arena celeste infatti vedete insomma il vestito e la colorazione perché in ogni saga cambia insomma sempre vestito quasi sì e devo dire come tutte le altre pop up parade è molto dettagliata andiamo un po' è fatta veramente molto bene sì 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 ma soprattutto anche le facce di queste figure della pop up secondo me sì infatti no no non c'è nulla insomma di cui lamentarsi ok bello anche qua la sfumatura dietro poi vabbè tutte le pieghe dei vestiti vedete le venature dei muscoli no devo dire che davvero ben fatta ah sì allora quindi l'andiamo a posizionare ah perfetto poi uno se la vabbè se la mette un po come vuole però veramente fatta bene però dire ah sì 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 io tra l'altro ragazzi vi ricordo se la volete recuperare link in descrizione www.japanshoppingservice.it io direi che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate e condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao